Ossia Chi so? Forse Ci insegue Non lo so Dove sei? Chi so chi so chi Ani Eh? Tu sei che siamo te mare nel merda? Lo sooo Ha paura A me ha paura e che Che? Ci siamo pure in mente la merda Se ti guardi i piedi Aaaaaah Che schifo oh 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 team messaggio gratuito siamo piacenti il numero bene è stato scoperto quattro delicare fragranti russi hanno offerto le fragranze e le bisogni che hanno ottenuto la barra e il comune So call me maybe Ssshh Sta telefono O come si? Ssshh I'm hungry Bene, proviamo una scena del film Forza 3, 2, 1 Motore Azione Scusate Scusate cosa? Oddio, tutti incompetenti Fuori il prossimo Oh mio dio C'è qualcuno che mi sta per ammazzare Il prossimo Aaaaaah C'è qualcuno che mi sta per ammazzare? C'è qualcuno che mi sta per ammazzare? C'è qualcuno che mi sta per ammazzare? C'è qualcuno che mi sta per ammazzare?